Ciao amici, bella a tutti dal vostro Jumpy, siamo qui per fare i Pornostici della 31esima giornata di Serie A Team. Prima di andare con i Pornostici, voglio salutare un amico, un piccolo tifosissimo, blucerchiato, DL7 Loria, che mi ha chiesto di salutarlo, e anche lui ha un canale dove parla anche lui della Samp, se volete seguire anche lui, è un carissimo amico, DL7 Loria, ciao! Allora, cominciamo con i Pornostici che sono suddivisi tra sabato e domenica. Allora, questi Pornostici praticamente sono un po' spezzatino, sia nel sabato che nella domenica, quindi sabato alle 15 il primo incontro è Benevento-Juventus. Gioca Cristiano Ornaldo e non gioca Marcello, quindi direi due, direi due, sì. Poi, alle 18 ci sono ben due partite. Una è Roma-Fiorentina. Roma-Fiorentina, io direi 1x. E Spal, Atalanta, l'altra alle 18, io direi gol. L'Atalanta, dopo la sconfitta della Samp potrebbe avere un calo, anche psicologico, e la Spal in casa, occhio. Quindi io dico gol. Il mio punto da lente, il mio, sabato sera, derby di Genova, Sampdoria-Genoa. Allora, non so, se stiamo a vedere come hanno giocato ultimamente, ci arriva un po' meglio il Genova. Ma la Samp, dopo l'ultima vittoria, potrebbe... Quindi, io dico over. Ok? Non ci sono! Poi, domenica, scusate, c'è un ritorno in cuffia. Ah, domenica, alle 12.30, Torino-Inter, un bel anticipo di mezzogiorno e mezzo, una sfida difficile. Toro-Inter, cosa dire qui? Io direi un X2. Per stare più tranquilli, direi X2. Alle 15.00 ci sono tre partite. La prima è Crotone-Bologna. Crotone-Bologna. Io direi gol. Perché il Crotone non è che sta, ultimamente sta prendendo un po' di batoste, però dovrà difarsi. E il Bologna è sempre una squadra da decifrare. Onestamente non so mai... Napoli-Chievo. Beh, Napoli-Chievo... All'andata, il Chievo fermò il Napoli sullo 0-0 in casa. Credo che il Napoli dovrebbe portare questa partita a casa. Più che altro deve. Se vuole continuare questo sogno scudetto, deve per forza. Quindi, uno. Poi, l'altra delle 15.00 è la Sverona-Cagliari. Allora, l'Ellas è una squadra che non riesce proprio a esprimere il suo gioco e ha parecchie difficoltà. Il Cagliari, devo dire che... Con Pavoletti è sicuramente un Cagliari temibile. L'Ellas, purtroppo, lo vedo un po' più spacciato e lo vedo parecchio in difficoltà. Mi dispiace un casino per i fratelli dell'Ellas. Comunque, il mio pronostico... Io non gioco mai no goal o under, ma questa mi sento di giocare. Quindi io dico no goal. Perché il Verona, mi sento che fa difficoltà a segnare il Verona. Poi, alle 18.00, Udinese-Lazio. Allora, la Lazio è in un gran momento. Ha giocato in settimana in Europa League, ieri praticamente. Vincendo, quindi in campionato comunque ha avuto un po' di... Un calo, ma comunque è sempre lì per giocarsela per la Champions. È l'Udinese che viene da un periodo nero. Ma proprio nero. Dove non riesce a... Non solo non riesce a vincere, non riesce neanche a pareggiare. E quindi... Non lo so. Vedendo come stanno facendo ultimamente, io per sicurezza direi X2. E per ultima, Alle 20.45, posticipo della domenica, Milan-Sassuolo. Milan-Sassuolo. Il Sassuolo anche in un brutto periodo. Il Milan è in un ottimo periodo dove ha fatto una serie di vittorie incredibili. Ha perso solo una partita, ma contro la Juventus. Giocando, peraltro, anche per un'ora abbondante gli ha tenuto sicuramente testa. Quindi è un Milan ritrovato. Gattuso. Secondo me è un allenatore capace. Sia nella tecnica, ma secondo me soprattutto anche nelle motivazioni. Ma quello forse un po' se lo aspettavano tutti. Se aspettavano o meno, invece è riuscito a risollevare le sorti del Milan che ora può sperare di arrivare in zona champion o comunque perlomeno in Europa League. che c'è. Quindi Milan-Sassuolo uno. Niente, questi sono stati i miei pronostici o i pornostici della trentunesima giornata. Sono in ansia per il derby. Sono in ansia. Spero, come io sono sportivo sempre, spero vinca il migliore. Spero sia una bella partita. E godiamoci questo derby che il derby di Genova, secondo me, rimane uno dei più bei derby in assoluto. A me piacciono tutti i derby. Mi piace persino anche quello di Verona. Mi piacciono tutti i derby. Un gran derby è quello di Milano. Quello di Roma è anche un gran derby. Molto sentito. Quello di Torino è un po' più impari, diciamo. Quello di Torino è un po' più impari. Però sono sempre belle partite. Quindi molto sentite. In città si vive molto questa cosa. E niente, quindi speriamo bene. Dai, speriamo. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Un saluto al vostro Jumpy. E fate i bravi. Buon campionato a tutti. Ciao.